Non mi chiedo più. Minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, mi chiedo chi sono, cosa voglio, perché sono. Poi passano i minuti, passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni ed io sono sempre lì dentro di me e mi chiedo chi sono, cosa voglio, perché sono. Poi il tempo non passa più, non esistono più i minuti, i giorni, i mesi e gli anni. Io non mi chiedo più chi sono, cosa voglio, perché sono, perché ti sento. Commento. Dove inizia il sentire finisce la mente, perché il sentire è insieme ogni domanda e ogni risposta.